Siamo qui, vi stiamo aspettando, lasciate i vostri domani, siamo nella piazza antica del rione di Maiano del quartiere con l'ambasciatore della musica popolare Campana, lui non so come ha trovato lo spazio per raggiungerci qui stasera ma c'è un calendario, grazie a quel signore Marco, è lui l'organizzatore della sera Quando Marco chiama o si corre o si deve correre, ambasciatore della musica popolare in tutte le regioni Non esageriamo, siamo piccoli tamurari che chiestano L'altro ieri era ad Isernia, ieri sera eri giù in Calabria, oggi sei qua, domani ancora in giro Domani andiamo alla Baccanalia, San Gregorio Magno Non ci programma di questa sera, è il petto che le persone ci devono raggiungere Quello che dico, è meglio che parla Marco, lui sa meglio di me Io posso presentare alla mia paranza, c'è Nicola, c'è Giovanni, c'è Antonio e c'è Urussu Lilario, se non lo vedo Urussu Lilario è il petto importante, eccolo là, è il tamburo battente per eccellenza Io parlo della nostra paranza, la paranza Rolioli, poi abbiamo una nostra amica che ballerà con le Castagnelli Speriamo che arrivo a questa paranza Tutto il popolo della Tamur che sta confluendo qua e sta girando già da tempo chiedendo in giro Marco, ma dove stava Ulioli? Signor Madrone, dove stava? A più tardi Ciao, grazie